Nessuno è arroccato le proprie posizioni, ha concluso il sindaco Bertoncello. Non si comprendono però spinte e fughe in avanti dei consiglieri della maggioranza che non hanno peraltro partecipato al confronto. Le difficoltà e i disagi della città vanno prima di tutto rispettati, non utilizzati. Noi proprio anche per rispondere a questo comunicato abbiamo invitato Cristian Moro che doveva essere qui già da 5 minuti, la sedia è ancora vuota, speriamo possa arrivare. Intanto mandiamo Cristian Moro, consigliere comunale della Porto Gruaro che vogliamo, lo attendevamo qua, non è arrivato purtroppo. Avremmo voluto chiedergli come mai lei Cristian Moro che fa parte della maggioranza va contro le posizioni del sindaco e ancora avremmo voluto chiedergli senta Cristian Moro ma lei che cosa intende fare per venire incontro al grido di aiuto dei commercianti e ancora consigliere Moro lascerà definitivamente questa maggioranza tra 10 minuti finisce il telegiornale. Cristian Moro sei ancora in tempo per venire a parlare visto che avevi chiesto a te di venire qui in trasmissione e io avevo concordato con te per venire qui giovedì sera. Il tempo sta scadendo. Regia Cristian Moro non è arrivato ancora quindi andiamo avanti, noi lo aspettiamo sempre. Allora per parlare di ZTL Cristian Moro purtroppo non è ancora arrivato, ne approfitto anche per salutare chi ha organizzato la conferenza stampa dei commercianti di oggi, hanno pensato bene di non invitare Tele Pordenone. Ormai mancano pochissimi secondi purtroppo Cristian Moro non ci ha deliziato della sua presenza, siccome non è la prima volta che in qualche modo non voglio usare una bruttissima frase si comporta così allora glielo ho fatto soltanto notare, queste cose comunque non si fanno. Parliamo d'altro che è meglio, la ZTL è un argomento tristissimo a Portogruaro allora tuffiamoci nella mostra del cinema. È davvero tutto, vi lascio al break, dopo il break il meteo, grazie e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.